In mostra abbiamo voluto rendere omaggio ai paesaggi lombardi esponendo 12 tele con questo soggetto di epoche e pittori dagli stili molto diversi nella sede di staccata di Villa Manzoni che costituisce un vero e proprio continuo della mostra di Palazzo delle Paure con questa specifica, un focus sui paesaggi lombardi. Ma pittori lombardi e paesaggi di quest'area non mancano neanche nel percorso di Palazzo delle Paure anche perché la Lombardia conobbe una grande diffusione del paesaggio soprattutto negli ultimi decenni dell'ottocento. Come per la scena di genere anche per il paesaggio, tema che peraltro la scapigliatura aveva frequentato piuttosto poco, l'orientamento stilistico dominante in Lombardia è quello naturalistico. Figura chiave del periodo, non solo per il paesaggio, è Filippo Carcano, talentuoso allievo di Francesco Aiezzabrera che, abbandonata la via della pittura di storia, si era distinto per uno stile autonomo, moderno, anche nella tematica paesaggistica. Elemento principale della pittura di questa nuova generazione di paesaggisti è la resa del vero attraverso delle gradazioni cromatiche impostate su una tavolozza composta soprattutto da terre, dall'uso della spatola, pennellate ampie, veloci, che non descrivono ma suggeriscono il soggetto, leggibile più a distanza che da vicino. Per la loro pittura questi artisti scelgono luoghi molto empatici, isolati, silenziosi, che permettono una trascrizione lirica della realtà e un confronto diretto e immersivo con la natura. Progressivamente mutano anche i titoli dei dipinti, che non specificano più la località ritratta ma piuttosto indicano la stagione, l'ora del giorno, l'emozione che il paesaggio ha dato all'artista. Nella seconda metà del secolo il paesaggio si diffonde anche in area veneta. Nella Serenissima chiaramente il retaggio della veduta classica alla Canaletto è ancora molto radicato, pochi artisti si avventurano in direzioni diverse. All'Accademia di Venezia soltanto un professore cerca di superare i canoni settecenteschi, Domenico Bresolin, nella cui classe cresce Guglielmo Ciardi, padre di Emma e di Beppe Ciardi, entrambi ottimi pittori specializzati nel paesaggio e nella marina. La ricerca sul paesaggio degli artisti di area veneta si concentra in particolare sugli effetti luministici e sulla resa atmosferica dei luoghi ritratti. In mostra le opere di artisti come Ciardi, Nono e Fra Giacomo ci raccontano questa svolta del paesaggio nell'area veneta.